Poi non è che qualcuno ha detto, ma di occhio, c'è un po' di la vasola e mi cavalli Questo qui è chiuso, questo è aperto, perché io apro Ragazzi ho un palo di ferro in culo C'è stato il cadavere? Lo posso vedere? Alla fine basta dire più a destra o più a sinistra Lo pagano pure